Unborn, quarta parte. Non si vede un cazzo, disse Fabri, ma tu sai dove siamo? Nella via, ricordo che era lunga, ma sta per finire. Dopo l'incrocio c'è la macchina, stai tranquillo. Camminavano in fretta e avevano entrambi il fiatone. Ruth si controllò le tasche per accertarsi che il fumo ci fosse ancora. L'aveva preso a gancio e aveva una paura fottuta di perderlo, senza contare che adesso avrebbe anche dovuto trovare un nuovo nascondiglio. Intanto la via non dava ceno di concludersi né di mutare. Era ancora la stessa infinita linea erosa di marciapiedi, nebbia e inferriate arrugginite. Ma sei sicuro che non abbiamo già superato l'incrocio? Magari in questa nebbia ce lo siamo perso? Ma no, cazzo, sono sicuro, rispose Fabri, anche se adesso sembrava meno convinto. Forse avremmo dovuto seguire il gatto. Fabri, sei un fottuto, caga sotto. Si guardò indietro e poi davanti. Non c'erano differenze. La via era un corridoio bianco da qualunque lato la si guardasse. Secondo me dobbiamo tornare indietro, disse Fabri. È troppo che camminiamo. E va bene, sbottorruzza. Fai strada tu, visto che sai. Ehi, non ti incazzare. E se no, che fai? Che testa di cazzo, calmati, protestò Fabri offeso. Ruz lo incenerì con un'occhiata che lo ammutolì. Si girarono, quindi tornarono indietro. Stiamo con gli occhi appiccicati a destra, così se l'uscita è qui non ce la perdiamo di sicuro, disse Fabri. Era un'ottima idea, ma Ruz non gli diede la soddisfazione di faglielo sapere.